Don Giorgio Riva, parroco di questa splendida Basilica nel centro di Milano, Sant'Eustorgio, questa basilica si chiama anche Basilica Magoi, Basilica dei Magi, qui arriva un corteo tradizionale molto folcloristico della città, amato anche, ma cosa rappresenta per la città appunto questa presenza plurimillenaria, pensiamo anche alla Cappella Portinari, storia di fede e di bellezza. Pietre vive che però sono i credenti e i fedeli. Come diceva proprio, storia di fede e di bellezza, qui la bellezza credo è riversata in abbondanza ma anche con molta modestia, nel senso che non si impone, è nelle cose, esprime la fede di quelli che hanno costruito questa chiesa come luogo per pregare, per accogliere il dono di Dio e farlo entrare nella loro vita. Molti milanesi vengono qua e quasi un po' senza conoscere, restano stupiti dalla bellezza di questa chiesa e credo che sarebbe opportuno conoscerla di più, come anche Papa Francesco ripete, la bellezza diventa una via di evangelizzazione, noi crediamo che sia così, stiamo cercando di fare in modo che possa servire per questo. Anche questa serie di concerti intitolata Segni di bellezza vorrebbe proprio partire dalle opere d'arte per farne cogliere il senso profondo e richiamare chi le vede alle realtà più profonde di ciascuno e poi accompagnarle anche perché insieme alla bellezza c'è anche la bellezza di una comunità che vive la fede. Perché questa chiesa è così importante per la storia sacra di Milano? Credo che lo sia almeno per due motivi, il primo è qui ci sono le origini della chiesa di Milano, secondo la tradizione c'è il fonte battesimale di San Barnaba che avrebbe iniziato qui la chiesa di Milano e in ogni caso qui c'è il più antico cimitero paleocristiano di Milano che è proprio sotto l'altare dove celebriamo e noi celebriamo proprio sulla testimonianza dei martiri. Qui ci sono le reliquie dei magi che sono ancora un segno di questa ricerca di Gesù, ricerca della salvezza che credo sia un segno molto forte anche per oggi. Qui inizia normalmente il nuovo vescovo che entra a Milano, entra da Sant'Eustorcio e poi in processione arriva fino al Duomo proprio come dire sulle radici poste all'inizio la continuità, la fedeltà dello spirito che fa vivere la sua chiesa con il nuovo vescovo e la accompagna per il futuro. La tradizione nel senso più bello, cioè di quello che ci è stato consegnato, il tesoro di fede che ci è stato consegnato qui è accolto e fatto vivere. Non possiamo non far menzione del grande apporto dei Domenicani che qui nel 1200 a cui si deve il grosso della costruzione di questa basilica sulla chiesa precedente, antica e che hanno fatto vivere San Pietro Martire, San Pietro da Verona è stato un grandissimo predicatore che ha riavvicinato i cristiani, il popolo, alla fede cristiana. Questa è stata un'opera importantissima. Bene scripsisti de me Tom. Cosa significa? Hai scritto bene di me Tommaso, è San Tommaso e il riferimento è alla Somma Teologica di cui una parte fu scritta proprio in questo convento dei Domenicani. è una rivelazione che avrebbe avuto e che qui viene raffigurata proprio sul retro dell'altare. Grazie a tutti.